Per contrastare l'installazione di impianti fotovoltaici nel territorio di Torre San Rocco, a Pineto i residenti hanno costituito il Comitato Civico Ambiente, Salute e Territorio Torre San Rocco e inviato una lettera al Dipartimento Regionale e Territoriale Ambiente, chiedendo di ripensare la scelta di impiantare campi fotovoltaici che creerebbero inquinamento visivo e danneggerebbe il territorio. Noi prevedevamo per questo territorio uno sviluppo agricolo e turistico, nel senso che in accordo con l'amministrazione comunale volevamo recuperare tutti i canali che ci sono vecchi di irrigazione storici per fare delle piste ciclabili. Nello stesso tempo l'amministrazione comunale voleva recuperare tutti i vecchi casali in modo da farci agriturismi, quindi noi prevedevamo un certo sviluppo per questa zona. Invece, cosa è successo? Che leggi nazionali hanno previsto che in queste aree prossime a zone industriali, quindi pianeggianti e le uniche adatte all'agricoltura, fossero utilizzate da impianti fotovoltaici a terra. Nel caso nostro qui verrà costruito, già provato, un impianto di 25 ettari, cioè 17 megawatt, una cosa enorme, che parte da questi pini che si vedono dietro di me e arriveranno nel nostro quartiere e lo circonderanno completamente. L'inquinamento visivo provocato inevitabilmente dagli impianti fotovoltaici scardinerebbe la politica economica e territoriale in corso. Insieme al Comune e ad altre associazioni ambientaliste tipo Lega Ambiente, abbiamo fatto le nostre osservazioni per cercare di preservare il territorio di questa zona. Il bello è che queste aziende dicono che già vivono in un territorio che è brutto, perché vicino alle aree industriali non ci vuole stare nessuno. Considerate che noi già subiamo una zona industriale con un depuratore, un inceneritore che verrà costruito più indietro, due impianti di riciclo di spazzatura. A tutto ciò si aggiunge anche fotovoltaico, una centrale nucleare.